Anziene a reclamare, dicevo, affidati ai gentleman, corsa che vede nel numero 7 Fotonemon SM, il cavallo più gettonato al totalizzatore, si parte, proprio Fotonemon SM all'esterno prova a sfondare, viene contratto per breve tratto da Petit Bond Jack che poi prende male, così il favorito può sfilare al comando e porre una serie ipoteca sul successo, quota finale di 2.35 per l'allevo di Mimmo Zanca che sta guidando liberamente su Petit Bond Jack e Orchidee HPD, piuttosto svelti i primi 400 metri e lo si può anche dedurre da come si è allungata la fila, in quarta posizione c'è Nearco Kampf e poi via via tutti gli altri. Siamo al passaggio davanti alle tribune, adesso vedremo un po' il ritmo tenuto da Nearco Kampf che adesso prende in mano e passa i 600 metri iniziali in 45 appena scarsi, a seguire sempre Petit Bond Jack e Orchidee HPD mentre prova a venire avanti ho il numero 13 di Obligatius mentre c'è l'errore di Nearco Kampf, un'altra delusione per il Sauro allenato da Vincenzo Ferranti, Foto Emon SM al comando Petit Bond Jack, poi il 4 di Orchidee HPD, prova a venire avanti Obligatius con il numero 13, anche il numero 11 di Ionico Jet viaggia a centro gruppo, nel frattempo il vantaggio di Foto Emon SM si mantiene inalterato, è sempre più soddisfacente anche perché in Niscia non ha certo due avversari molto significativi, adesso è il momento di Orsetta e di Nae BLV di andare via dal gruppo, molto incisiva l'avanzata di Orsetta però il distacco da Foto Emon SM è ormai davvero troppo consistente, mentre sta tenendo l'Utsider Petit Bond Jack che pensate paga 247 al totalizzatore, nel frattempo ormai è incolmabile il vantaggio di Foto Emon SM che viene a vincere molto bene nei confronti dell'anticonista Orsetta, mentre al terzo posto il numero 4 Orchidee HPD, sorpresa della corsa 55 al 4 del totalizzatore, 2.35 invece quello dell'atteso vincitore Foto Emon SM, guida di Carbelo Calluzzo, training di Mimmo Zanca, i colori sono quelli del signor Giuseppe Sacco, al secondo posto Orsetta numero 15, al terzo Orchidee HPD numero 4, dunque 7.15.4, l'ordine d'arrivo ancora ufficioso dell'ottava ed ultima corsa di Palermo.